Buongiorno a tutti, sono sempre VicTras98, vi informo che ho ricominciato il nuovo podcast dopo due settimane di pausa perché era stato poco bene, quindi era l'unica cosa che potevo sacrificare torno a Costante da oggi con una puntata al giorno e ho parlato del successo all'estero di Dune che mi scalda veramente il cuore, quindi se volete ascoltarlo ho trovato su Spotify, Spreaker e su Google Podcast Allora per l'inizio del video vi ricordo che in descrizione vi rimando alla home page dei tuoi pampling vi ho trovato un sacco di prodotti a tema nerd come le magliette e le felpe con tante stampe che vengono costantemente aggiornate questa è su Squid Game, mi piace tantissimo ma ce n'è anche un'altra che vedete in sua impressione che a mio parere è veramente bella sempre su Squid Game ma ce ne sono poi un sacco di altre su altri film o serie con tanti anche crossover che sono carinissimi, poi ci sono i zaini, le scarpe con tanti pattern che a me piacciono un sacco e se volete avere questi prodotti potete aggiungere all'acquisto un paio di calzini a vostra scelta anche quelli sono veramente belli, ce ne sono per tutti i gusti e se usate in fase di acquisto il codice Villaslo non pagate le calze che avete aggiunto all'acquisto ma se questo codice lo utilizzate con la promo 4x40 che vi parlate di avere 4 magliette a 40€ quindi 10€ non solo se aggiungete un paio di calze a vostra scelta non le pagate ma non pagate neanche le spese di spedizione quindi magari può essere utile se state acquistando per voi e volete rifare il guardarobo oppure se state acquistando con amici per dividervi le magliette quindi questo era quello che volevo dire sull'argomento se vi interessa sapete cosa fare però bando le cianci iniziamo subito con il video di oggi sigla allora ho già fatto due video su Squid Game qui sul canale questo è il terzo e a meno che non succeda qualcosa per cui io ritenga che sia necessario tornare a parlarne non parlerò più qui su youtube della prima stagione di questa serie e lo dico perché probabilmente ne arriverà una seconda o magari chissà arriveranno gli spin off e in quel caso ovviamente ne parlerò perché si tratta di nuove uscite oggi sto facendo questo video perché ritengo interessante il discorso che sto per aprire non perché lo sto facendo io ma perché è proprio interessante almeno per me questo argomento pensando a Squid Game mi sono ritrovato a chiedermi come mai questa serie sia stata così tanto apprezzata al punto da diventare la serie più vista di sempre su Netflix scalzando Bridgerton che qualche mese fa aveva totalizzato delle visualizzazioni importanti è anche vero che Netflix quando si parla dei suoi prodotti conta come visualizzazione completa anche la visualizzazione che viene data oltre i due minuti quindi Squid Game è stata vista da più di 110 milioni di persone ma può anche darsi che molte di queste abbiano cliccato sulla prima puntata e dopo magari 4-5 minuti l'abbiano chiusa ma per Netflix quella è una visualizzazione quindi diciamo che poi il fenomeno forse viene anche gonfiato ma è innegabile che abbia avuto una certa presa sul pubblico ma come mai? e se lo chiedono tutti quelli che la trovano sopravvalutata quando un prodotto diventa mainstream c'è sempre una frangia di polemici che devono dire che sì ma questa roba non è niente di che per l'amor del cielo non è effettivamente la serie più bella che io abbia mai visto e ruba tra virgolette tante idee per poi assemblarle e creare qualcosa di nuovo però come sappiamo ci sono tante cose che sono direttamente riprese da Kamisama Noyutori ovvero As The Gods Will manga che poi è diventato un film di Takashi Miki oppure da Battle Royale oppure ancora da Alice in Borderland e così via in realtà l'autore della serie aveva in mente questo progetto questa idea da 9 anni ma non gliela facevano realizzare era arrivato a essere coperto dai debiti aveva addirittura dovuto vendere il computer che conteneva tutti i suoi progetti tutte le sue idee per poter arrivare a fine mese e poi alla fine ha avuto il colpo di fortuna quindi cos'è che ha reso Squid Game un successo planetario cosa non facile peraltro per una serie coreana che in alcuni paesi tra cui l'Italia neanche è stata doppiata eppure anche da noi ha avuto una certa presa quindi molte persone che di solito non guardano prodotti sottotitolati si sono fatti vincere dalla voglia di capire che cosa fosse questo Squid Game di cui tutti parlavano e perché cazzo dappertutto si vede essere persone che scioglievano lo zucchero e facevano le formine allora io credo che ci siano alcuni elementi che hanno decretato il successo di Squid Game e che sono stati oculatamente ponderati in primo luogo il successo è dovuto anche all'estetica non è tanto diverso da quello che è accaduto con La Casa di Carta La Casa di Carta è una serie assolutamente mediocre che era iniziata in maniera interessante che è poi diventata per quanto mi riguarda una discreta porcheria e finalmente a dicembre finirà e uscirà la seconda parte dell'ultima stagione la quinta e La Casa di Carta aveva puntato sulla tenuta indossata dai rapinatori ovvero la classica tuta rossa con la maschera di Salvador Dalì non è tanto diverso quello che è stato fatto in Squid Game perché se ci pensate abbiamo le guardie che indossano le tute rosse con una maschera che reca un simbolo a seconda del loro grado in comando quindi triangolo, cerchio o quadrato come potete vedere anche dalla maglietta quindi già questo secondo me crea un certo impatto io ricordo che vedi Squid Game il giorno dopo la sua uscita perché mi era comparsa in home l'immagine e ho pensato wow ma sembra molto figa questa serie le darò un'occhiata e poi intanto ho iniziato a dire mi hai visto Squid Game mi hai visto Squid Game mi hai visto Squid Game non pensavo che avrebbe avuto il successo che poi è arrivato nelle settimane successive quindi già l'estetica delle tute con le maschere fa perché è di impatto quel rosso con la maschera col simbolo che ricorda tanto i simboli della Playstation infatti ci sono state molte battute a riguardo e non solo quello anche le tenute quasi carcerarie dei concorrenti davano una caratteristica perché vedevi tutte queste persone vestite uguali e quindi anche se ho avuto delle immagini ti chiedevi ma che cos'è e poi c'è stata anche la genialata che di solito riesce a rendere iconici molti prodotti soprattutto per quanto riguarda i film horror se tu vuoi attirare l'attenzione del pubblico devi metterci dentro una cazzo di bambola inquietante succede sempre è successo con la bambola assassina è successo con Annabelle è successo perfino con slappi dei piccoli brividi oh non c'è un cazzo da fare i pupazzi creepy e inquietanti alla gente piacciono guardate che cazzo di fenomeno è diventato Five Nights at Freddy's se ci spostiamo di medium perché comunque andiamo nell'ambito videoludico ma se vi si va in fiera i pupazzi di Foxy, Freddy e tutta la combriccola sono compratissimi sono bellissimi da vedere non c'è niente da fare la bambola incazzata funziona sempre e nelle prime puntate abbiamo la bambola che canta la canzoncina che sarebbe l'1,2,3 stella ma quella è la canzoncina che viene cantata in Corea nel gioco e qui abbiamo però appunto due elementi congiunti abbiamo la bambola inquietante gigantesca tra l'altro con gli occhi sbarellati perché deve scannerizzarti e se scopre che ti sei mosso ti sparano pure e quindi già c'è la componente di violenza perché la violenza è qualcosa che attira da sempre l'essere umano perché fa parte del nostro istinto ma poi grazie al libro arbitrio alle leggi e all'educazione noi non la esercitiamo anche se c'è gente che la esercita ma una persona che sa che la violenza è sbagliata non la pratica però è purtroppo un qualcosa che istintualmente è presente in noi da sempre quindi quando la violenza è controllata perché finta perché è una violenza fasulla oppure anche negli sport uno sport violento che però ha delle regole ferre ci sono dei controlli e quant'altro attira sempre la box, l'MMI, gli sport violenti sono qualcosa che funziona sempre proprio per questo motivo quindi la bambola che ammazza unita al fatto che abbia anche la canzoncina inquietante che è qualcosa, un elemento che ha sempre attirato molto fanno sì che questa minchia di bambola con la sua canzoncina abbiamo iniziato a vederla veramente dappertutto molte persone hanno iniziato a guardare Squid Game per via della sua estrema viralità è diventato virale su Instagram con i meme è diventato viralissimo su TikTok è diventato virale dappertutto su Reddit con le varie creepypasta insomma è riuscito a diventare un successo perché è uscito dal suo ambito specifico non è più solo una serie tv è un evento mass culturale non lo so per quanto lo sarà ancora ma al momento è un evento mass culturale quindi da questo punto di vista io personalmente credo che abbiano fatto un ottimo lavoro quello dal punto di vista estetico poi ci sono i giochi, i giochi mortali i giochi mortali sono qualcosa che attira sempre perché ad esempio Alice in Borderland non è diventato virale quanto Squid Game ma aveva questo componente dei giochi che piace un sacco però Squid Game ha quel qualcosa in più perché ad esempio Alice in Borderland manca l'impatto estetico mancano delle caratteristiche che Squid Game ha ma comunque era stata vista parecchio magari non a questi livelli ma se ne è parlato molto quando uscì l'anno scorso infatti sto tenendo la seconda stagione per cui questo è l'impatto estetico che sicuramente è fondamentale ma poi c'è dell'altro la colonna sonora cioè la colonna sonora è importantissima sia ad esempio per la canzoncina della bambola ma anche quella nenia che c'è sempre nei momenti in cui ci si avvicina alla violenza quella po 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 che usignolo però quella ti rimane in testa se tu riesci a dare al tuo prodotto una colonna sonora particolarmente orecchiabile e che ti comunica in questo caso anche una certa ansia è inevitabile che tu vada ad imprimere una firma su questo prodotto quindi è una serie che punta tanto sull'acchiappo sensoriale tanto per la vista quanto per l'udito già solo questi elementi basterebbero già solo questi elementi basterebbero ma poi ci deve mettere la violenza visiva la serie non è splatter tranne in qualche scena adesso quando diciamo operano i cadaveri ma non solo è tanto gore è molto molto gore è molto gore c'è tanto sangue e questo come dicevo prima sicuramente attira e poi diciamocelo la gente ha sempre apprezzato quei film o quelle serie in cui ci sono persone che muoiono in maniera bizzarra è il motivo per cui la saga di Saw ha avuto tanto successo a livello di impatto visivo avevi il cosiddetto pig saw quindi il mantello con la maschera di maiale e poi avevi le trappole che giocavano sul contrappasso qui è un po' la stessa cosa ci metti una certa violenza però è una violenza legata a dei giochi particolari e la generata vera è stato il gioco del caramello perché? perché voi direte ma sì è una roba normale e no no perché dopo il primo con la bambola tu ti chiedi che cosa arriverà e arriva qualcosa che ti mette in una comfort zone se il primo era un gioco in cui bisognava correre bisognava stare attenti a non muoversi il secondo è un gioco più di testa e di abilità manuale però si passa da un gioco frenetico dove le persone venivano ammazzate a frotte con una tensione incredibile a un tipo di tensione diversa con un gioco in cui sono tutti seduti che lavorano in silenzio sperando di salvarsi per staccare la formina dal cerchio di caramello ma la genialata vera è non solo il fatto che il gioco sia estremamente ansiogeno perché comunque per quanto sia poco dinamico è proprio lì che sta la tensione sono tutti in silenzio tutti concentrati ecco la genialata vera è stata offrire al pubblico qualcosa che potesse direttamente coinvolgerlo questo è il fatto perché la viralità è dovuta anche a tutte quelle persone che su TikTok e su altre piattaforme hanno iniziato a sciogliere il caramello nel pentolino nella padella e a provare loro stesse a fare la loro formina con il giochino con l'ago per staccarla è questa secondo me la genialata il fatto che tu spettatore pensi guardando beh ma la posso fare anch'io sta roba qua un gioco per bambini che fanno in Corea da noi non c'è però cosa ci vuole zucchero lo sciogli un pizzico di bicarbonato così si gonfia poi appiattisci imprimi la tua forma e ci fai un video virale che la meta basta ecco questo è il vero genio cioè gli autori hanno capito cos'è che piace alla gente la gente piace essere coinvolta l'interattività il fatto di sentirsi coinvolto in qualcosa che ti sta piacendo è senza alcuna ombra di dubbio la cosa che più può farti attaccare e affezionare ad un prodotto e infatti ecco che questo è successo tutti si sono messi a provare a fare il giochino con lo zucchero e il bicarbonato e quindi è tutto un insieme di elementi che secondo me funzionano straordinariamente perché diciamocelo la serie in sé è bella ma non è la cosa meglio diretta e meglio scritta del mondo eppure ha un quid ha dei personaggi interessanti e quant'altro ma il successo è tutta una questione di marketing che probabilmente è stato pensato ad hoc ma in maniera furba ma anche accorata cioè io non vedo squid game come qualcosa che hanno cercato di vendere e basta no si vede che ci hanno messo dell'impegno e sono riusciti ad azzeccare tutti quegli elementi soprattutto sensoriali che effettivamente messi insieme hanno portato al grande grandissimo successo dell'opera quindi io sono molto contento devo essere sincero di poter constatare come certe cose funzionino ancora perché ripeto la casa di carta ha funzionato per quel motivo e anche perché ad esempio avevano avuto il colpo di genio di dare un nome di città a ciascuna a ciascuno dei personaggi e quello comunque è interessante perché hai Tokyo hai Helsinki hai Stoccolma è bello quello perché è caratteristico poi se vogliamo stare a guardare la casa di carta ha rubato a piene mani da Inside Man cioè la storia anche la questione della divisa dei rapinatori quella è solo cambiata però ha più impatto perché metti la maschera di Salvador da lì il colore rosso anziché blu cioè diciamo che da quel punto di vista hanno puntato un po' di più sulla strategia di marketing e ha pagato in Squid Game le strategie hanno pagato ancora di più perché sono riusciti proprio a mescolarle in una maniera secondo me incredibile poi anche la puntata delle biglie la puntata delle biglie è interessante perché leggevo un articolo in cui dicevano che l'acquisto di biglie sui shop online soprattutto su Amazon è aumentato esponenzialmente dopo l'uscita della serie anche lì vedi questi che giocano a biglie e ti dici cacchio voglio una roba che mi ricordi il film e ti compri un sacchettino di biglie ok il gadget cioè il gadget è importantissimo se tu fai qualcosa per cui si possano vendere i gadget hai vinto e qui addirittura c'è il gadget tra virgolette che ti puoi fare tu che è la formina di caramello cioè capito è questo cioè il successo di un prodotto è anche legato al merchandise a quanto puoi comprare di quel prodotto a quanto puoi estrapolare quel prodotto dalla fantasia e portarlo nella realtà e loro ce l'hanno fatta quindi davvero chapeau che vi piacciono alla serie secondo me questi sono gli elementi più importanti che non si possono ignorare per cui io mi sento di dire bravi perché gli faccio l'applauso fatemi sapere cosa mi ha pensato di questa cosa con un commento qui sotto fatemi sapere qual è l'aspetto che vi ha attirato maggiormente perché magari poi nei commenti si scopra che ci sono altre cose che io non avevo considerato e che comunque hanno contribuito a rendere sempre più di successo questa serie io intanto vi abbraccio vi ringrazio in finita e noi ci vediamo al prossimo bui vlog ciao a tutti